C'è una grave minaccia per l'agricoltura, che tutti conosciamo. Il problema è che molti di noi non la stanno prendendo sul serio. Ma dobbiamo farlo prima che le cose peggiorino, perché utilizzare erbicidi con lo stesso meccanismo d'azione, anno dopo anno, e ridurre al minimo la rotazione delle culture e i metodi di coltivazione, significa solo ignorare il problema. E più a lungo ignoriamo questa minaccia, più essa crescerà, fino a quando non potremo far altro che guardarla mangiarsi interi campi, dove nessuna cultura potrà prosperare e sopravvivere. Noi chiamiamo questa minaccia Resistenza, un mostro in agguato nei nostri campi che si nasconde tra le infestanti che crescono nelle nostre coltivazioni. La cosa peggiore è che queste infestanti trasmettono la loro resistenza agli erbicidi alle generazioni future. Una grave resistenza agli erbicidi si sta diffondendo tra le specie infestanti principali, con conseguenze sempre più preoccupanti per tutti noi. Il numero di erbicidi efficaci sta diminuendo e gli agricoltori in particolare si troveranno ad affrontare rilevanti perdite economiche. Questo anche perché, a breve, non sarà disponibile nessun nuovo meccanismo di azione erbicida. Le conseguenze sono devastanti. Se non saremo più in grado di controllare le infestanti resistenti, queste si troveranno a competere sempre di più con la cultura, portando ad un calo consistente nelle rese e nel reddito. Ma c'è qualcosa che possiamo fare per fermare tutto questo. Se uniamo la tua conoscenza ed esperienza con la nostra tecnologia ed il nostro supporto, insieme possiamo combattere efficacemente la resistenza. E qual è l'arma migliore per combattere la resistenza delle infestanti? Diversità. Diversità e il futuro. L'iniziativa Bayer contro le resistenze.